amiche amici di rossini tv buongiorno benvenuti a una nuova puntata di casa rossini siamo a questa nuova versione della nostra trasmissione che prevede un ospite a puntata l'ospite di oggi e andiamo a scoprirlo già seduto sul nostro divano andiamo a scoprire samuele scaloni buongiorno samuele ciao paolo e buongiorno a tutti allora samuele scaloni ci siamo detti poco fa cosa cosa diciamo cosa comincia la cosa migliore è scoprire far scoprire i nostri telespettatori come ci siamo conosciuti come ti ho conosciuto esatto ti ho scoperto esatto nel senso che passeggiavo per il centro dopo una un bel pomeriggio in un evento che era finito prima di quanto mi aspettassi e di conseguenza prima di andare alla macchina ho fatto un giro e ho fatto una stradina anche inconsueta che non si fa frequentemente da via branca a girare verso via della maternità e in fondo visto questa bottega ho detto ma guardate e in questa bottega ci sono gli strumenti e io sono appassionato di strumenti musicali anche se non so suonare e ho scoperto la bottega di samuele che è un riparatore di strumenti a fiato e di pianoforti la prima cosa che ti chiedo è ma è consueto avere un laboratorio che ripara strumenti a fiato e pianoforti insieme sicuramente no perché il pianoforte lo conosciamo tutti strumento percussivo è grande bello il fiato è proprio richiede tutto un altro tipo di preparazione se non quella musicale e sicuramente no quindi però parte dal mio passato perché io ho sempre avuto una grande passione per per la musica ho iniziato a suonare pensa non sapevo né leggere né scrivere ho chiesto di andare a suonare a cinque anni e il pianoforte e vocazione vocazione mi piaceva il pianoforte ho chiesto di suonare il pianoforte ho suonato un po di anni il pianoforte poi il desiderio di fare il conservatorio e lì sono entrato in flauto attraverso ho fatto il mio percorso in flauto attraverso e lì mi sono diplomata per cui esatto la vita da musicista esatto ho fatto tutto il percorso e mi piaceva restare nell'ambito dopo la curiosità la mia scuola ho fatto la scuola per odontotecnici in contemporanea al conservatorio e quindi a scuola manuale certo e ti dicevo prima la curiosità perché chi ripara deve essere curioso deve sapere cosa c'è sotto cosa c'è come funziona esatto un pianoforte bisogna aprirlo per 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 capire il funzionamento e e da lì ho iniziato a riparare strumenti a fiato che erano il primo strumento con il quale mi sono diplomato poi piano 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 il desiderio di tornare al pianoforte mi ha portato alla riparazione anche dei pianoforti per cui è questo laboratorio atipico che abbina il pianoforte e gli strumenti a fiato e tu sei lì che li rimetti in vita esatto io entrano clienti musicisti perché i miei clienti sono musicisti ma anche appassionati e che hanno necessità di personalizzare riparare mettere a posto il loro strumento e diciamo io mi definisco un po il loro calzolaio a loro non piace questa questa cosa perché perché considerano forse di più però in fondo sono quello che che fa a loro una scarpa su misura quindi tra l'altro il laboratorio è in realtà ho detto via della maternità per dirvi dove si arriva ma è più facile in realtà è via gaveli come civico sono stato anche fortunato perché poi mi hai svelato che te non è che sei uno di quelli che lavora 24 ore al giorno no diciamo io cerco di ottimizzare il tempo il negozio è aperto dalle 10 alle 12 e 30 tutti i giorni e dalle 5 e mezza alle 7 e mezza e questo perché un po perché per comunque per accordare fare assistenza che non forti è necessario essere fuori in altri orari un po perché comunque le mie passioni e le mie necessità o la mia famiglia e quindi diciamo anche con il post pandemia mi ha aiutato a ragionare e a dare anche importanza a determinate cose una delle passioni la vediamo ecco una passione è quella ed è una mia grande passione è il il running e c'è da dire che non corro su strada perché le cose comuni no chi è che riparra gli strumenti musicali siamo in 10 15 in italia e quindi è un lavoro desueto e le cose comuni non mi piacciono quindi correre su strada siamo in troppi dobbiamo correre sui sentieri quindi percorsi sterrati ed è una grande passione ma un grande impegno anche perché molto spesso ci mettiamo la prova su gare importanti cioè gare 100 120 chilometri quindi significa correre 18 ore paolo quindi insomma è abbastanza e quindi richiede tempo e quindi se non sono in negozio sono a correre esatto sappiate che se passate dalle parti di via gavelli perché cercate di poter avere dei riferimenti per riparare o uno strumento a fiato o un pianoforte e lui non c'è è a correre da qualche parte esatto esatto al 99 per cento o è in qualche casa perché anche questa è una cosa esatto che mi hai detto perché io poi sono entrato in questo negozio esatto perché mi è presa da qualche tempo una passione che è quella di mettermi in casa un pianoforte ma la cosa straordinaria è che io non so suonare niente però sono appassionato di strumenti e allora dico boh glielo dico non glielo dico mi sembrava una domanda abbastanza strana invece ho visto subito una reazione positiva allora ho detto questa persona la voglio conoscere meglio perché la domanda era vorrei mettermi in casa un pianoforte che deve essere bello perché chiaramente nasce come elemento d'arredo poi chi vuole un pianoforte brutto non c'è nessuno che vuole un pianofortaccio mezzo sbertucciato ma allo stesso tempo io non so suonare ma magari spero che se capita qualcuno che sa suonare mettendoci le mani sopra non faccio un salto dall'orrore ma riesco a suonare insomma questo era era il tema originario non vi dico com'è andata a finire perché ancora non è andata a finire ma vedremo però vi dico che è venuta fuori un'idea che secondo me è molto bella quella che hai avuto e che tra l'altro mi ha ricollegato perché ma io questa cosa l'ho già letta anche sui social perché tu l'avevi già proposta sui social esatto io nei social diciamo ho questa proposta questa offerta che ha questo motto che un pianoforte a casa tua a meno di un euro al giorno il concetto è effettivamente come hai tu il desiderio di avere un pianoforte a casa ma il pianoforte spesso non è una cosa solo ingombrante economica ingombrante come spazio ma anche economicamente può essere impegnativo e come hai detto tu io ho piacere di provare ma poi se non mi piace se non se non viene nessuno a suonarlo che non penso ma se non viene nessuno a suonarlo o comunque se cambio idea se non cosa ci faccio con questo pianoforte e siccome ho visto che come te in tanti hanno questa necessità questa questo questo pensiero il segreto è pensato di utilizzare una formula che spesso viene utilizzato nelle case nelle automobili cioè il rent to buy l'affitto con la possibilità del riscatto quindi cosa succede tu con un euro al giorno prendi un pianoforte che piace a te lo scegli te te lo porti a casa e te lo godi tutto l'anno chiami gli amici fai le feste impari a suonare il pianoforte e a fine anno puoi decidere puoi decidere mi è piaciuta la prova e ho deciso di acquistarlo oppure anche se decidi di acquistarlo quello che pagato ti viene riscattato come in un'automobile o in un rent to buy oppure ancora non ho deciso perché non ho ricevuto molti amici a casa voglio invitarne ancora e in quel caso hai la possibilità di rinnovare il noleggio o ancora e la cosa non alla fine non l'ho mai suonato samuele ascolta non prendo una tromba prendo un sassofono deciso che almeno lo suono e riprendo il pianoforte e e ti porta a sassofono e quindi siamo amici come prima e quindi questa è una formula penso che vedo che è molto apprezzata si è apprezzata perché tiene sospesa quella che è una decisione importante perché comprare un pianoforte esatto in maniera non impegnativa anche perché non no perché poi quello che ci siamo detti anche questo no al di là della dell'idea che uno può avere scorrendo gli annunci economici quelli che ci sono su internet su marketplace o sui giornali eccetera ci si può ci si può fare un'idea che si possa comprare con poco un pianoforte poi invece tu mi hai spiegato che purtroppo il pianoforte ha bisogno di un'assistenza continua e i pianoforti un po trascurati poi purtroppo diventano irrecuperabili e allora c'è questo problema che poi alla fine uno si porta a casa con pochi soldi un pianoforte irrecuperabile e lì a quel punto che sia bellissimo perché solo è solo un mobile allora lì avevo letto una volta di uno che aveva scritto pianoforte vuoto solo da estetica ci si fa una vetrinetta per le bibite almeno più onesto però non siamo in quel mondo lì siamo nel mondo di chi poi degli strumenti a cura perché tu mi dicevi che poi durante il periodo del del noleggio ovviamente essendo il tuo il pianoforte gli stengo un po' dietro io dico sempre i pianoforti e i miei pianoforti in giro per la città a noleggio sono i miei e sono pianoforti che io ho scelto cioè io quando vado al grossista e vado al grossista a 80 90 meno forti e io li provo tutti 80 e 90 e prima di tutto devo un piacere a me prima di tutto quindi e quindi è per me interesse che pianoforti restino in salute anche a casa del cliente e quindi comunque c'è è prevista la visita periodica il pianoforte viene accordato ogni anno quindi diciamo è un noleggio addirittura è un servizio senza pensieri per il cliente avete capito perché ho avuto immediatamente di lì a pochi minuti voglia di invitare samuele a venire a fare una chiacchierata con noi a casa rossini perché in effetti è un tema talmente così trasversale perché poi noi stiamo parlando di pianoforti e di strumenti ma stiamo parlando di una filosofia stiamo parlando della filosofia per esempio della riparazione che è una filosofia che ovviamente con lo sviluppo tecnologico sia completamente persa quando va bene sostituiamo il pezzo e quando va meno bene buttiamo l'oggetto completamente e invece la filosofia della riparazione meriterebbe in tanti altri campi in tanti altri ambiti una 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 riscoperta io seguo dei gruppi di motociclisti che sono appassionati di moto degli anni ottanta le riparano le rimettono in funzione tutto e quando magari in quegli anni si faceva svelto a rottamarle per comprare quelle quelle nuove gli strumenti da una parte si prestano particolarmente a questa cura questa attenzione legata alla riparazione sia per i loro costi sia per tanti motivi dall'altra però tu mi dici che poi non c'è tanta gente che si dedica a questa cosa che è anche curioso se ci pensi esatto e guarda hai detto bene e allora è ovvio che oggi nel mercato è arrivato in maniera abbastanza prepotente anche nel nel nell'ambito degli strumenti musicali il lo strumento cinese ovvio quello è materiale di consumo cioè non uno strumento cinese non ha un grandissima probabilità possibilità di riparazione e per i costi e per le sue capacità di le sue possibilità di essere riparato però c'è una un grande un grande ambito nello strumento importante cioè nello strumento diciamo già dallo strumento da studio di marca cioè è interessante la cosa siamo pochissimi perché è un lavoro che non non esiste e non esisteva in italia il primo riparatore è stato modenese e che che si è inventato perché se sei entrato nel mio lavoro nel mio laboratorio hai visto in realtà è un'officina ci sono i torni ci sono i trappani a colonna perché questo perché non esistono pezzi di ricambio quindi noi ogni pezzo di ricambio ogni sostituzione il pezzo va creato quindi va costruito al turnio va fatto alla fresa richiede un po di competenza un po di curiosità e un po di ecletticismo cioè nel senso bisogna un po interessarsi a tutto io sono stato nei laboratori degli orafi a capire con gli occhi alcune cose sono stato dai tornitori a capirne altre dai cesellatori a capirne altre cioè diciamo è è molto a 360 gradi il mio tipo di lavoro e quindi anche per questo sì effettivamente siamo veramente pochi in italia non esiste una scuola non ci sono scuole di formazione e da dire che pesaro potrebbe essere il posto giusto per fondarla una scuola di questo genere visto che siamo città unesco della musica guarda sarebbe interessante io feci un corso nel 2015 sovvenzionato dal fondo sociale europeo e tra l'altro bellissimo perché fu fatto nei laboratori del dell'istituto arti del liceo artistico di pesaro i vecchi laboratori di orafi erano chiusi sono stati chiusi e tuttora sono chiusi con 15 allievi e tra l'altro qualcuno ha aperto il laboratorio quindi c'è bisogno insomma c'è e non bisogna neanche avere troppa sai spesso nell'artigianato c'è la paura del del frutto del mestiere no cioè del io ti insegno un lavoro e poi tu me lo rubi questa cosa è molto e invece conta il tempo conta il lavoro ce n'è conta il tempo conta l'esperienza e l'insegnante che mi ha insegnato a me perché comunque anch'io vengo da un insegnante questo lavoro e anch'io gli feci ma maestro ma perché mi insegna queste cose no perché mi insegna queste cose e lui faceva così e così e cosa significa così e così quanti sono 10 e 20 questi sono sempre gli anni che ci separeranno di esperienza e quindi è quindi diciamo sì effettivamente non c'è una formazione e sarebbe interessante sarebbe sicuramente interessante senti tu hai cominciato da ero segnato ma dal 95 io nel 95 esatto nel 95 ero piccolino avevo 22 anni e tanto c'è un aneddoto su questo è un aneddoto sì che amo e dell'aneddoto come ero 22 anni ero un pischelletto un ragazzino appena uscito dalla scuola sbarbatello e quindi l'aneddoto è come misi la barba la misi perché adesso adesso siamo pochi ma una volta eravamo pochissimi a fare questo lavoro e il mio nome aveva cominciato a spargersi e mi chiamò un flautista importante di un'orchestra l'orchestra della rai di torino per riparare il suo flauto ma si parla di si parla di un flauto importante flauti flauti noro e all'epoca in lire era circa 60 70 milioni di lire e quindi questa persona venne giù a da torino non ricordo se con il treno con con l'automobile comunque arrivò a pesaro nella mia butteguccia che era di fianco dove sei stato ancora più piccola entrò e chiese c'ero solo io perché anche perché fisicamente c'entravo solo io dentro la bottega e chiese avrei appuntamento con scalloni samuele e io gli feci sono io ragazzino 22 anni ragazzino sono io rimase rimase di gelo di gelo devo dare nelle mani questo strumento no importante a un ragazzino e io rimasi di gelo come lui perché notai un attimo il disagio suo e le bianchi io e quindi li capì che era necessario che era necessario dovevo invecchiare e quindi misi sulla barba a quel punto mia moglie dice che forse ora che la tolgo perché forse adesso mi comincia ad invecchiare però sì sì e da lì dopo a proposito di bambini mi viene in mente una domanda che volevo farti prima poi dopo abbiamo cambiato il discorso e tra l'altro siamo quasi in chiusura mannaggia già sono passati i minuti che ci eravamo riservati e tu hai detto che hai cominciato a suonare il pianoforte da bambino che ancora non sapevo né leggere né scrivere ci sono lo strumento esiste per bambini oppure si comincia su quello si comincia su quello ed è anche un bene iniziare da piccoli perché con il giusto insegnante si inizia con il gioco non importa il bambino studia caccia deve a quell'età deve essere un gioco ci sono dei corsi proprio di no per per i bambini piccoli propedeutica musicale propedeutica infantile e deve giocare giochiamo con il tasto sentiamo il suono e da lì cresce la cosa cresce l'interesse però sì benissimo iniziare da piccoli però anche alla tua età paolo benissimo io ho avuto un cliente 71 anni è venuto a comprare un carinetto perché era sempre stato il suo desiderio e a 71 anni ha deciso di comprare un carinetto personale guarda io ho una famiglia nella quale diversi dei miei familiari sono sono coinvolti nel mondo della musica addirittura c'è mio nipote davide che lo fa di mestiere ho la casa piena di strumenti ma è una di quelle cose non so se c'è qualcosa che si deve sbloccare la paura non mi ci non mi ci dedico e per cui sono sempre più convinto che quel giorno dove entrare nel posto giusto e che oggi non è caso ma sono molto contento di avere portato questa chiacchierata in televisione perché sono altrettanto convinto che a casa qualcuno starà cominciando a dire ma quasi quasi magari spinto da questa idea coraggiosa di samuele di portare i suoi pianoforti a un euro al giorno a meno di un euro al giorno tra l'altro lui prima ha detto te lo porti ma in realtà ve lo porta lui a casa non vi preoccupate ve lo porta lui in più c'è questa cosa che lo stesso mi ha affascinato il fatto che i pianoforti sono i tuoi vuol dire che tu vuoi talmente bene ai tuoi pianoforti che fai manutenzione anche nelle case non è che il pianoforte viene dimenticato abbandonato lì insomma anzi se quando arrivi ti accorgi che qualcuno ci ha appoggiato qualcosa che non va bene dici amico quello lì è il mio pianoforte che lo vivono con serenità il pianoforte se succede il grave non succede niente certo certo però insomma così va bene niente il tempo è volato delle tue passioni parleremo magari in un'altra occasione è stato un piacere anche per me sono convinto che a casa qualcuno abbia scoperto qualcosa di nuovo e magari ti verrà anche a trovare vi terremo aggiornati informati su quello che sono gli sviluppi di questa cosa e un giorno faremo la ripresa dentro casa mia di samuele che con il mio pianoforte il pianoforte vedremo grazie a tutti per essere stati con noi anche oggi a casa rossini grazie a samuele scaloni rintracciabile sia nel suo negozio sia attraverso il sito e i social ricordiamo i social il sito e l'appuntamento è una prossima puntata eh di casa rossini grazie ancora arrivederci paolo arrivederci grazie a tutti